Fabio Meluri a Cosenza, come è avvenuta questa decisione l'ultimo momento dopo la chiusura della campagna acquisti? Una decisione maturata insieme al mio procuratore, sapevo dell'interessamento di Cosenza e siccome Cosenza è una grande piazza, poi da Calabrese ho colto l'occasione al volo per venire subito. Da Calabrese ti avvicini a casa, Cosenza è una città non solo appetibile ma con tanta fama di calcio che vuole arrivare subito e al più presto nel calcio che conta. Meluri farà parte di questo progetto ambizioso? Io mi auguro che per la piazza di Cosenza sicuramente hanno grandi aspettative quindi mi auguro di centrare in pieno quello che è l'obiettivo della società ovvero quello di rimanere nella prossima Lega Pro unica perché comunque Cosenza è una realtà importante e penso che questo è quello che si meritano i tifosi e la società è il blasone, è la storia di questa società. Presentati un attimo dalle giorni all'Atalanta, poi Foggia e Barretta la tua dedizione soprattutto a smistare palloni ma non disdici anche di spaccare tanta legna? Diciamo che cerco di essere completo perché ormai il calcio richiede anche questo e quindi cerco di adattarmi nel miglior modo possibile a quelle che sono le richieste dell'allenatore ma alle situazioni di gioco che si creano in campo. Hai già parlato con il mister, il tuo ruolo in campo? Sì, io sono un centrocampista, invece gioco davanti alla difesa certo, poi ovvio il mister fa le sue scelte e quindi cerco di eseguirle nel miglior modo possibile sono a sua disposizione. Come vedi che la formazione di quest'anno? Ma io onestamente conosco poco ancora della... perché mi sono aggregato ieri e quindi non ho avuto l'occasione di vedere l'organico in modo specifico però penso che sia una squadra costruita per vincere e quindi sicuramente ci saranno ottimi elementi.